e la decisione a livello di risultato che ha più diviso gli appassionati almeno negli ultimi anni cioè la vittoria di Brock Lesnar contro Undertaker soprattutto la fine della streak alla fin fine è l'argomento di discussione principale ci si può ampiamente dividere su questa scelta prego Mattia e poi Max e poi io dico anche la mia col senno di poi secondo me non è stata una scelta sbagliata nel senso che io trovo che comunque nel roster WWE di persone che potevano battere in maniera convincente Undertaker e poi sfruttarla in quella maniera ce n'erano veramente poche nel senso che uno come Lesnar puoi giocartelo come mostro imbattibile che nessuno riesce a battere tranne poche persone se tu fai sconfiggere che ne so la streak a qualcun altro come per esempio che ne so a Roman Reigns che poi vabbè lui ha sconfitto Undertaker però comunque lui perde i match settimanali la differenza può essere che una è vista come una vittoria dominante di una persona che domina l'altra può essere vista come poi una botta di culo perché in quell'occasione è riuscito a battere Undertaker quindi secondo me se posso interromper il problema di molti non è tanto che a vincere sia stato Brock Lesnar il problema è molto è stato far perdere Undertaker esatto il problema è la fine della streak dobbiamo credo dividere la nostra discussione su due piani cioè è giusto che abbia vinto Lesnar contro Undertaker è una cosa l'altro piano è è giusto che sia finita la streak di Undertaker e di Restylmania e ci si può ovviamente dividere secondo me lì sì allora ti dico a livello narrativo come sembra allora da fan da fan di Undertaker la risposta è no secondo me la streak poteva essere una cosa bella da avere che sarebbe che rimaneva lì per sempre come che ne so grande come grande achievement della carriera di Undertaker su quello sono d'accordo ok da narratore ti dico quando tu costruisci una cosa così importante io ti dico che è giusto che prima o poi la cosa finisca nel senso che comunque tu hai costruito un premio o una cosa talmente grossa che è giusto che a un certo punto per continuare la storia la storia deve finire a un certo punto io infatti non puoi lasciare capisci che intendo no no capisco perfettamente infatti sono dell'idea che non mi trovo a contrario l'idea di far finire la streak perché comunque come si dice tutte le cose prima o poi devono avere una fine apposta perché però tutte le cose devono avere prima o poi una fine deve essere una fine cioè il punto è se tu mi fai vincere cioè se tu mi fai perdere Undertaker a Wrestlemania la streak stop cioè quello deve essere quello è un altro discorso deve essere l'ultimo match di Undertaker cioè Undertaker finisce con la fine della streak secondo me perché ormai è diventato diciamo il suo il suo il suo punto più riconoscibile cioè e attenzione a quel punto ti fai la domanda chi si prende questo fardello perché è comunque un fardello quello di interrompere la streak di Undertaker e sostanzialmente fare un vero e proprio passaggio di consegne alla fin fine perché comunque passi da cioè Undertaker che passa la torcia sostanzialmente a quello che sarà il futuro della WWE e il futuro della compagnia e lì si può aprire un altro discorso chi è che era cioè qual è la persona qual era o quale sarebbe stata la persona giusta per raccogliere questo fardello per essere colui che sostanzialmente ha ritirato di Undertaker e va detto che una cosa del genere l'hai fatta tu in WWE perché tralasciamo il discorso di Brock Lesnar resta in media 30 Roman Reigns resta in media 33 non ci fosse stata la streak prima cioè non si fosse stato Brock Lesnar resta in media 30 poteva starci benissimo tralasciamo il discorso che Roman Reigns che Roman Reigns comunque gran parte del pubblico lo detesta però a livello di idea quantomeno c'è Reigns che batte Undertaker in modo decisivo e sostanzialmente lo ritira perché l'intenzione era quella in quella in quella notte secondo me era un ottimo finale a prescindere dalla persona però il finale il finale secondo me ci potrà star bene cioè Taker che sprofonda praticamente nelle viscere nelle viscere dello stage o della terra in quel in quel caso esatto nella botola dello stage come uscita di scena è perfetta è perfetta secondo me la sconfitta della 30 è molto più bello lui che se ne va rispetto a vederlo perdere e basta alla 30 come uscita di scena è perfetta per il ritiro e io ripeto la storyline del 2015 quella dell'accettazione della streak della sconfitta della streak era un qualcosa da fare non poteva essere quello della 30 l'ultimo incontro in assoluto dovevi ampliare quel racconto e l'hanno fatta benissimo secondo me si è vero ma detto che la 30 sotto l'endova nera la storyline dell'accettazione della sconfitta della streak è un passo alla perfezione è il modo perfetto per umanizzare Undertaker al contrario di come hanno fatto con Styles diciamo che la storyline la storyline di Take a Post del 2030 è Taker che rosica sostanzialmente rosica? sì sì rosica palesemente rosica palesemente ma va bene è umano l'hanno umanizzato alla perfezione Taker che gli erode è perfetto è perfetto no ma hai ragione pare che la lina sella del 2015 con Lesnar è stupendo sì sì no ma ripeto il problema è che comunque sai cosa se posso interrompere gli preferisco ancora quello del 2002 no sì 2002 era io invece quello del 2015 sono molto belli entrambi personalmente mi piace più quello del 2002 però sono gusti alla fine sono gusti intendiamoci sono gusti no comunque ti dicevo secondo me hai allora però il discorso allora come momentum finale è molto meglio quello con Roman sono assolutamente d'accordo però ripeto il problema è il dopo il problema è che lui è tornato poi è rovinato tutto è un problema è un problema è un problema è un problema